Ciao a tutti poracci, pronti a ripartire? Dopo un maggio dominato dall'uscita di Xenoblade Chronicles, Nintendo Switch non vedrà l'arrivo di nessuna produzione AAA per il mese di giugno. Ma questo non significa che si tratterà di un mese povero di uscite, anzi, come andremo a vedere, sono parecchi titoli meritevoli di attenzione. Come al solito, seguirò l'ordine cronologico di uscita e mano a mano andrò a inserire i giochi nella mia personalissima hype list. Quindi vi aspetto nei commenti per sapere cosa pensate di acquistare questo mese e se ci sono dei titoli che stimolano la vostra curiosità. Inoltre, vi lascio nel primo commento i link per prenotare tutti i giochi che vi presenterò all'interno del video. Se avete intenzione di comprare qualcosa, facendolo da questi link darete un piccolo supporto al canale, senza spese aggiuntive. Detto questo, se avete lasciato un like e vi siete iscritti al canale attivando la campanella delle porotifiche, direi che siamo pronti per partire. Iniziamo! Apriamo il mese con 51 Worldwide Games, in arrivo il 5 giugno. Si tratta di una collection di 51 giochi da tavola, che include tutti i grandi classici, dagli scacchi al biliardino, passando per Backgammon, Hanafuda, Bullying e Hockey da Tavolo. Con la possibilità di sfidare altri giocatori grazie al multiplayer, sia in locale che online, sapete che vi dico? A costo di sembrare super vecchio, un vero boomer, 51 Worldwide Games è uno dei titoli che più mi attira questo mese. E non pensavo che l'avrei mai detto. Non finisce nel tier massimo solo per il prezzo leggermente altino, intorno ai 40€, ma fosse stato un periodo meno complicato, l'avrei acquistato ad occhi chiusi. Sempre il 5 giugno arriverà The Outer Worlds, GDR ad opera di Obsidian Entertainment. Aspettatevi un gioco di ruolo di grandissima fattura, che è stato in grado di conquistare critica e pubblico lo scorso ottobre, quando è uscito su PC, Xbox e PlayStation. In pieno stile Obsidian abbiamo tutti gli elementi che rendono indimenticabili le loro produzioni, tra cui un setting affascinante, dialoghi permeati da humor e personaggi dal grande carisma. Se siete orfani di Fallout, in particolare New Vegas, questa space opera potrebbe fare al caso vostro. Peccato solo per il prezzo pieno, quando è comodamente giocabile sul Game Pass. Non essendo un amante dei GDR di stampo occidentale, per me The Outer Worlds finisce in C tier e rimando l'acquisto ad un futuro sconto, o perché no, direttamente su un'altra piattaforma. I nostalgici degli FPS old school dovrebbero segnarsi questa data, l'11 giugno, giorno di uscita di Project Warlock. Se infatti gli utenti Switch ancora non sanno quando potranno mettere le mani su Doom Eternal, di cui è stato ufficializzato il porting, ma non la data di arrivo, Project Warlock è una vera e propria lettera d'amore all'epoca d'oro degli FPS. Prendendo palesemente ispirazione da titoli come Doom, Wolfenstein 3D, Blood e Heretic, la produzione di Backshot Studios cattura l'essenza degli sparatutto in prima persona degli anni 90. Grafica in pixel art, un ritmo frenetico, sparatorie senza fronzoli e livelli dal design intricato. Per soli 14,99€ quella di Project Warlock è un'offerta tremendamente interessante e va di diritto nella A tier. EA torna su Switch con un'altra remastered e questa volta è il turno di Burnout Paradise in uscita il 19 giugno. Per quanto ami il racing arcade ad impostazione open world ed è forse uno degli episodi che preferisco della serie, continua la politica poco virtuosa del publisher che decide di imporre il prezzo pieno, quasi, a delle remaster che sinceramente meriterebbero un altro tipo di trattamento. Come la Bioshock Collection o la XCOM Collection, per me l'acquisto è fuori discussione e se proprio avrò voglia di riprendere questo grande classico, lo farò, purtroppo, su altre piattaforme. SpongeBob SquarePants, Battle for Bikini Bottom, Raid Rated, in arrivo il 23 giugno, oltre ad avere uno dei titoli più lunghi che la storia del videogioco ricordi, è anche un nome che fosse in voi terra ed occhio per questo mese. Si tratta di un platform 3D uscito originariamente nel 2003 su tutte le console dell'epoca e viene ricordato con grande affetto dai giocatori di allora. Il gioco, grazie ad una storyline inedita, riusciva a catturare lo spirito del cartone animato, dando vita a un platform particolarmente vario e ispirato. Questa versione reidratata poi presenterà alcune sostanziali novità, tra cui l'aggiunta del multiplayer ed elementi rimossi dalla prima pubblicazione. Con un prezzo contenuto di 29,99€, se avete voglia di un bel platform 3D pieno di oggetti collezionabili, SpongeBob è il gioco perfetto e per me finisce in alto nella tier list. Ninjala, inizialmente previsto per lo scorso mese, sembra finalmente deciso ad uscire il 24 di giugno. Del gioco abbiamo già parlato, è un clone cinese free-to-play di Splatoon 2 e chi ne ha provato la demo ne è rimasto piacevolmente colpito. Visto che è gratis, non ha senso domandarsi se valga la pena o meno l'acquisto. Ed è per questo che finisce direttamente in 8 tier. Il 25 giugno è il turno di Brigandine, The Legend of Runerzia, ad opera di HappyNet. Con questo RPG tattico abbiamo il sequel di Legend of Forzena, uscito nel 1998 su PS1 e mai arrivato in Europa. Gli amanti del genere, dopo aver spolpato per bene e fare emblem Three Houses, potranno trovare pane per i loro denti in Brigandine, dove verrà chiesto al giocatore di assumere il controllo di una delle sei nazioni di Runerzia per porre fine alla guerra e unificare tutti gli stati sotto la propria bandiera. Come detto, per gli amanti del genere, Brigandine è oro colato. Peccato che il prezzo non certo regalato, 49,99€, allontani chi non è avvezzo a produzioni del genere. E per questo, per me, il gioco finisce nella C tier. Legend of Heroes Trails of Cold Steel 3 chiuderà il mese delle uscite, approdando su Nintendo Switch il 30 giugno. Ok, sono un amante dei GRPG e dopo Xenoblade, in attesa di Paper Mario, questo potrebbe essere un ottimo diversivo. Peccato che la storica serie rolistica vanti numerose uscite alle sue spalle e che questo capitolo sia la terza parte di una saga nata e cresciuta esclusivamente su console Sony. Iniziare da Trails of Cold Steel 3 potrebbe non essere una buona idea, soprattutto se si considera il prezzo pieno di 59,99€. A malincuore, The Legend of Heroes finisce, per me, nella zona più bassa della tier list. E per finire, ragazzi, non dimentichiamoci che questo mese avremo la prima uscita del secondo Fighter's Pass di Smash. Un personaggio di ARMS entrerà a far parte del roster e quindi aspettiamoci un bel Sakurai Direct a introdurci il nuovo lottatore. Anche se il brand potrebbe lasciare un po' freddini, sono molto emozionato di vedere cosa Papà Sakurai abbia in serbo per noi e mi aspetto una nuova ondata di interesse nei confronti di Smash e del suo futuro. Quindi, per me, hype al massimo. Estier. E questo, ragazzi, era tutto per il mese di giugno. Qui sotto troverete tutti i link utili per acquistare i giochi in prenotazione e vi aspetto nei commenti per sapere cosa avete intenzione di comprare questo mese. Mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale se siete nuovi attivando le porotifiche. Io sono il Poro Michele, una volta al mese, ciao! Grazie a tutti!